Viaggiare con estile alla cima del monte Struch nella funivia di recente apertura. Il percorso di 778 metri offre una vista mosafiato sulla città vecchia, la stazione superiore a due terrazze panoramiche attrezzate con cannoziale, un bar, un ristorante panoramico, un negozio di souvenir e di più. Grazie per la visione!